Ma cosa fai con un paziente depresso? Un'altra vidi una famiglia la cui figlia aveva smesso di fare tutto in casa, in pratica non lavava per terra, non lavorava, non metteva a posto le cose, si faceva aiutare dai genitori, era diventato un po' come un fantasma all'interno della casa. Ovviamente diversamente da un fantasma, lei cosa faceva? Si vestiva, mangiava e quelle non rare, però neanche comuni, non comuni, volte in cui usciva si faceva scarrozzare dai genitori e accompagnare dove doveva andare. Questo mi fece notare che aveva delegato ai genitori tutta una serie di comportamenti, quindi erano loro che per esempio gli cucinavano, erano loro che gli stiravano i panni, che glieli lavavano prima e che ovviamente la portavano in giro per la città. Ovviamente i genitori facevano tutto questo per aiutarla, però il problema è che si era venuto a creare come un'impalcatura, i loro comportamenti erano una struttura di sostegno al suo problema, che non facevano altro che mantenerlo. Chiesi allora ai genitori di mettere in atto dei boicottaggi benevoli, delle piccole sbatataggini, dimenticarsi di svegliarla, dimenticarsi di prepararle il pranzo, magari dicendole che, visto che era rimasta tanto tempo a dormire, pensavano che lei non volesse affatto pranzare, avere degli impegni improvvisi che gli impedivano di scarrozzarla in giro. La seduta successiva, i genitori mi dissero che c'era stato un primo piccolo miglioramento. La ragazza aveva ripreso a fare delle cose che aveva abbandonato da tempo. Questo fu molto importante perché creò una prima piccola crepa nella struttura del problema, nel modo in cui funzionava, e ci permesse poi successivamente di far sì che la ragazza, cominciando a fare una serie di cose, arrivasse poi anche in seduta, così che io potei iniziare a lavorare con lei. Ecco, uno dei problemi della depressione, come sai, è la bulia, cioè la mancanza di volontà, che però spesso è supportata dal contesto all'interno del quale si trova la persona depressa. Non è raro, infatti, che il sistema, cioè le persone che sanno attorno alla persona, come la famiglia, il partner, gli amici anche, i colleghi, i fratelli, eccetera, si organizzino in un modo tale che supporta, suo malgrado, il problema, e che continua a mantenerlo in vita. È una visione sistemica in cui all'interno del sistema del problema ci sono altre persone. Pensa appunto alla depressione. Magari la persona in questione inizia per l'appunto a ritirarsi, a rinunciare a tutta una serie di cose e a farsi sostituire da chi gli sta attorno, a chi gli vuole bene, che non lo fanno per cattiveria, anzi, lo fanno proprio perché gli vogliono bene. Il problema è che così facendo, sostituendosi in quelle attività che caratterizzano la nostra vita quotidiana, stanno alimentando, stanno nutriendo il problema stesso, stanno rinforzando la depressione. L'idea allora è quella di smontare quelle impalcature, quei sostegni che mantengono il problema, la depressione. È come se tu, anziché andare a strappare un'erbaccia, gli togli l'acqua per farla seccare. Per fare questo si potrebbe chiedere alle persone che stanno attorno di smettere di aiutare la persona, di smettere di essere quest'impalcatura al problema. Il problema è che non è spesso facile, perché si è andato a costituire un sistema che si regge su quello. Così, una cosa che puoi fare è chiedergli di iniziare a mettere in atto dei piccoli boicottaggi casuali, un po' come delle interruzioni di quei comportamenti di aiuto che non aiutano affatto. Pensa alla storia di prima. Avevo chiesto di mettere in atto delle piccole dimenticanze, dimenticarsi di svegliare la figlia, dimenticarsi di preparargli il pranzo, dimenticarsi che aveva un appuntamento a cui dovevano portarla. Tutte delle piccole dimenticanze che però erano sostenibili e che avevano la funzione di svegliarla da quel torpore in cui si era rinchiusa. That's the idea. Andare a trovare quei comportamenti che mantengono il problema e a minarli con dei piccoli boicottaggi, un po' come togliere dei sassolini che stanno alla fine della montagna per andare poi a creare una frana.